E' io, Mario! Sulle mie, sulle mie quelle! No, non ti pio niente, non ti pio niente! Ooooooh! Non ti cazzo! Oh, sta lasciando, sta lasciando! Morto, morto! Oh, ma come cazzo è stato morito? Morto, morto, morto qua davanti! Ma qua! E' morto qua davanti! E' morto qua davanti! Lo hai detto una volta! Mi son cagato in mano! Oh, sta lasciando, sta lasciando! Mortaggio, guarda! Chilo, 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 chilo! Chilo, chilo, chilo! Sto caricato! Dio mio! Cura, mi cura, mi pro! Oh, già le sto vedendo, che cazzo sta con me ha? Si, le sto togliendo! Le sto togliendo! Le sto togliendo! Ok, ok, ok! Oh, oh, oh! Ian, hai visto che ho fatto? Diva qualcosa, Ian! E fatti qualcosa, Ian! Che succede qua? Oh, è stato lui, è stato lui! È stato lui! No, no, no! Io c'ho la pistola, io c'ho la pistola! Pazzo, pazzo, pazzo! Ah, io sei matto! Ragazzi, mi hai dato un trucco! Faccio la puttana! Ogni volta moro io! Ragazzi, mi dite un trucco per seri sopra, non ce la faccio! Sono stupido per cos'è! Ma qua siamo morti tutti! Oltre a dare questo mio tributo al piccolo e umile tributo al mitico clan Cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Hanno ammazzato Alien! È stato Yaghi! È stato Yaghi! È stato Yaghinoff, l'ho visto! L'ho visto! È stato Yaghi! Ho spaiato con la cetta, oh! È stato Yaghi! Ho la cetta che spai, oh! Non ti vuoi mettere! Silverno è il mio cavallo! Chill la casa! Schifoso essere un legato! Ma non sono stato io, però! Viene Alien qua, viene Alien qua! Arrivo io, arrivo! Non sono stato io! Dai, dagli una mano Yaghi! Dagli una mano! Mi sento freddo! Vedo la luce! Un poco di buono quello! Si inginocchi, Davide! È disispettoso! Si è stato un ottimo amico! Ti ho visto nascere! Ti ho visto morire! Ti ho visto morire! Sei stato un ottimo destino! Hai combattuto insieme a me! Nei momenti molto buoni! Ohhhh! Grazie! Vedo la luce! Vieni in foglia, vieni qua! Vieni in foglia, vieni qua! Vieni in foglia! Oh! Quanti punti stile erano se lo facevamo così da prima! Non mi hanno visto ma! Io non mi sono venuto quella mano così che cosa è caduto! Ohhhh! Ohhhh! Mamma mia! Io li ho visto eh! Io li ho visto Yaghi! 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 Tu vuoi dare una piccola mentezza! E se fatti i figli tipo! Non lo escludo! No no! Lo volevi fare! No no! No dico in chat! Hai sentito che rumore è diverso? Gabissimo! Non piange perché tu non stai inserb però! Va bene! C'è se vuoi dare info? Dalle! Però basta che non piangi bro! Cioè! Va bene tutto eh! Nope! 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 Mannaggia! Sta a posto! Sia mi metti! La lancia! Io mi tiro una N1 adesso lo sapete! Ti ho fatto il tp! Ti ho fatto il tp! Sono in mezzo al niente! Eh! C'è tp target building blockhead! Non posso tippare! Non so un motivo! Andare a pisciare! Andare a pisciatelo subito ragazzi! Sono in realtà che pensano che li state snaverando! No! Please! Non pensi una cosa del genere! Noi eravamo da schianto raga! 2 ore dopo! No! 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 De manco gli ho fatto la sub! E' andato a guardare la live di Joe! Greve! Chi? Ah! Io sono andato a pisciare! Ma che cosa è di Joe! Hahaha! Holy sh**! Comunque no ragazzi Ma guarda che siamo a snapperare Un po' di stiamo tutti a tre in streaming Tranne Iachino Poi che potrebbe snapperare effettivamente Ma se sei in streaming Non ci ha detto nulla No ma anche se fosse Cioè Scano di un engage in chat Vedrete l'effetto Vedrete l'effetto Le prossime partite di disengage Lo vedrete Lo vedrete Anzi questo è se mi faccio un bel nano Nel senso Oddio Il prodotto di engage Il prodotto di engage Il prodotto di engage ragazzi È il prodotto Oddio È il prodotto di engage Cioè No no Giuro Adesso vi porto le prove Assolutamente No 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 Chat Io te Diggio Spari Spari Perché non ci ho pensato proprio What? Chat Giù Avevo il mouse dall'altra parte Chat Ho cliccato letteralmente dall'altra parte What the fuck Almeno potete lasciargli qualcosa Gli avete preso tutto Eeeh A me mi hanno ammazzato nudo Mi hanno preso pure il piccone Gli altri avevo anche 50 euro Ma che è che ha fatto sta domanda de merda? Ma che c'avevo tre anni Mi hanno lasciato Poi se non la gente piani Ma che è oh Che poi non piangono loro Piangono i follo Capito? C'è qualcosa Io non ho avuto 12 anni Mi hanno rubato L'una piana più 9 Ma che è No 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 Ah 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 What am I doing? What am I doing? Holy shit Che cazzo ho fatto? Nah No Su all'Aki ragazzi I swear Qui su all'Aki Su all'Aki Se è sostenato un casino Non me l'aspettavo Sto frio i puttani di Fage Perlo voi Io in questo periodo ho deciso di Sempre incentrare il mio canale Sull'olio Ma molto Da di molto molto meno peso Rispetto al Al solito Al peso generale Che ha Signor Leo Non è No mi dissocio Completamente Grazie mille del supporto Leo 36 mesi 3 anni Di benvenuto nel canale Mi ho obbedito sul canale per te Leo E ribenvenuto bro Ragazzi comunque Dal 21 Cambieranno Non so se avete fatto Ci avete fatto caso Ma l'ho dato sia il grab 22 Cioè come Guardate Cioè guardate il video Salve Salve avventuriero Sono il messaggero Il messaggero WolfiLubo Se avete un messaggio Sono qui per voi Salve Salve Allora vedete perché c'è in gauge Vai Ragazzi Chi è? Io sono in gioco Io mi metto dietro ragazzi No non lo sparò Ciao ragazzi Scusate Uè malerie C'è un altro C'è un altro dietro Bravo Ragazzi Ragazzi M'hanno ammazzato ieri Chiro e ladri M'hanno ammazzato ieri questi Ma l'hanno ammazzato ieri A merde A merde Mazzate Mazzate la gang Figli di puttana M'hanno detto Figlio di puttana Da lì la macetata Da lì la macetata Da lì la macetata Mi ammazzi puoi salvarti Pezzo di merda Figli di puttana Io me lo ricordo Ti ho segnato un momento di sgozzo Andiamo tutto a Mamma mia Mamma mia Per fare il drago ci sta Mi piace Tu shall not pass